Sono 31 e neodipendenti della TUA, la nuova società di trasporto unico abruzzese con un giro di affari di 140 milioni di euro, la settima azienda nel panorama nazionale con i suoi 30 milioni e 200 mila circa chilometri preventivati e la nona per valori di produzione tra servizio urbano, suburbano, extraurbano e ferro, per un totale di 1.600 dipendenti. Entra salutando i nuovi assunti il presidente della regione Luciano D'Alfonso, insieme al sottosegretario con delega e trasporti Camillo D'Alessandro e il rettore dell'Università degli Studi di Teramo Luciano D'Amico, presidente di TUA, nata formalmente con l'atto di fusione tra le aziende GTM, FAS e ARPA. Presidente, con quale criterio sono stati scelti i dipendenti TUA? Quella stabilita dall'ordinamento. Se fossero imprese si chiamerebbe gara, siccome sono persone si chiamano concorsi pubblici, che danno la par condicio a tutti. Ed è straordinario quello che è accaduto. Da società originarie, che erano piene di lividi e di problemi finanziari e di organizzazione, è nata una nuova società che è TUA, che è la sesta società italiana per potenza trasportistica, che oggi presenta al pubblico decine di risorse umane che sono state individuate a seguito di concorso. Questo accade quando si ha il coraggio del cambiamento. Ma un'altra grande novità che ha visto il lavoro di D'Alessandro, in prima fila del presidente D'Amico, del capo dipartimento e di questa struttura che è deputata a curare i trasporti, è quella di rimettere su strada risorse umane che erano finite, diciamo così, segmentate dietro le scrivanie. Noi adesso abbiamo una restituzione su strada di risorse umane esperte che hanno anche una grande voglia di fare e di produrre servizio. Tra le novità annunciate nella sala stampa di Palazzo Silone all'Aquila, l'estensione del biglietto unico a tutte le province abruzzesi, ma soprattutto il ritorno su strada tra autisti e controllori di circa 80 dipendenti dell'amministrativo. Abbiamo messo in campo un progetto industriale vero. Dopo pochi mesi dalla nascita di TUA si vedono gli effetti che sono, da un lato la riduzione dei costi, soprattutto sull'approvvigionamento, sugli acquisti. Voi immaginate tre società che compravano lo stesso pezzo del motore o le gomme in modo diverso, con costi diversi. Noi abbiamo centralizzato gli acquisti, abbiamo reso possibile la realizzazione dell'economia, abbiamo riorganizzato il meccanismo del lavoro.